Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di X3 Terran Conflict Ho tantissime cose da dirvi La scorsa volta dopo aver finito di registrare è solo successo un macello di cose bellissime Di cui andrò a farvi un resoconto rapidissimo adesso Allora innanzitutto ho trovato una bellissima nave cargo Cioè no una bellissima, ho trovato una nave cargo che adesso vi faccio vedere Questo è Dimitri Tank Che era di un pirata, stava trasportando delle merci illegali Ma porca miseria signorina mi devi sempre parlare sopra Stava trasportando delle merci illegali L'ho attaccato per tirarlo giù Lui ha abbandonato la nave Allora cosa ho fatto? L'ho reclamata e l'ho equipaggiata di tutto punto per fare del commercio remoto Come potete vedere ho equipaggiato tre scudi da 25 Mg E ho messo il dispositivo di commercio remoto Allora di base, di serie al software di commercio MK1 Che è molto utile Ma a noi serviva anche il software di commercio MK2 Che ho installato Poi abbiamo messo potenzialità di accelerazione Localizzatore di vendite favorevoli Di acquisti favorevoli Duplex scanner Il commercio remoto L'acceleratore temporale La singolarità Abbiamo aumentato la capacità della stiva Abbiamo ottimizzato un po' la manovrabilità Un po' il motore Spettacolo Spettacolo E quindi questo ha migliorato un sacco le nostre capacità finanziarie In più praticamente contemporaneamente mi è capitato di trovare una missione di trasporto In cui bisognava trasportare otto persone se non ricordo male Ed era urgentissima, c'erano tipo 16 minuti Ho lasciato come non so che cosa, corso, 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 corso E sono arrivato tipo con giusto tre minuti di anticipo dello scadere della missione E mi hanno pagato 197.000 crediti 197.000 Cioè è una cosa incredibile Con quei soldi Adesso c'è la nave che mi comunica Con quei soldi ho acquistato uno scanner minerario Con cui ho fatto delle missioni di scansione di asteroidi E se ne troveremo oggi andremo a farne qualche un'altra Ho acquistato di nuovo il triplex scanner Che se vi ricordate mi era stato distrutto dall'attacco pirata Che purtroppo anch'esso non è stato registrato Ho comprato la licenza Teladi Per cui quando sono in territorio Teladi A distruggere delle navi nemiche dei Teladi Guadagno dei crediti E ho potenziato al massimo il nostro Elite Quindi sia velocità che stiva Che manovrabilità al massimo del nostro Elite Allora adesso come potete vedere Mi è arrivato un messaggio Io di base quando non ho tantissime navi cargo Imposto che mandino un messaggio ogni volta Che hanno completato l'ultimo ordine che avevo loro assegnato Così posso controllare bene dove stanno commerciando A che prezzo eccetera eccetera E non le lascio senza far nulla Allora adesso non ricordo più esattamente dove l'avevo mandata Ah l'avevo mandata per comprare del ghiaccio Come potete vedere qua c'è un sacco di ghiaccio che costa poco Quindi andiamo a comprarne tutte le unità che riusciamo In questo caso non sono tantissime perché occupano 8 spazi luna comunque Spendiamo un pochino di soldi Però adesso con l'estensione Best Buy Best Sell Possiamo sapere nel sistema In quel sistema dove ce lo comprano a crediti buoni Ok non ce lo comprano da nessuna parte Potete vedere c'è anche i migliori acquisti Filtraggio dell'acqua Esatto qua avranno bisogno di ghiaccio Molto probabilmente E quindi possiamo andare a mandarlo in Giove 3 per Adesso però non c'è più tre messaggi L'ho chiuso purtroppo Navigazione andare nel settore Giove 3 E adesso ci comunicherà poi dopo quando è arrivato Adesso la nostra velocità è un pochettino più alta Andiamo fino a 160 metri al secondo Uh aspettate aspettate C'è arrivata la comunicazione dalla nostra nave Che è arrivata in Giove 3 Vediamo Best Sell Wow 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 All'impianto di filtreggio dell'acqua Malfa Li vendiamo a 136 l'uno Che sono praticamente il doppio No di più del doppio Quasi il triplo Cioè sono tipo il 150% di quanto li abbiamo pagati 150% in più di quanto li abbiamo pagati E Bei soldini E' arrivato il messaggio dal nostro Dimitri Tanker E Suppongo che abbia fatto quindi grandi soldini Adesso E' cresciuto tra l'altro ancora il prezzo 140 Vediamo quanto ci facciamo 51k crediti Ottimo Ottimo Adesso vediamo un attimo se Best Buy Qua quanto viene il ghiaccio 50 Quindi possiamo comprarlo anche direttamente da qua Ottimo Ok ragazzi Abbiamo trovato una missione Di scansione asteroidi Quindi andrò a farvi vedere in cosa consiste In pratica ci dice che dobbiamo scansionare tot asteroidi E l'unica cosa che bisogna fare è avvicinarci sufficientemente agli asteroidi Il radar per la scansione Si può attivare solo quando si è a meno di 10 km Ci indica i vari settori in cui dobbiamo scansionare gli asteroidi E gli asteroidi che vuole che siano scansionati In questo caso ce ne chiedeva uno qua nel quartiere generale PT&I E altri in altri settori Adesso andremo a prendere anche gli altri E' un lavoro un po' monotono come missione Ma alla fin fine paga abbastanza bene Quindi Non è male Paga in base a quanti asteroidi scansioniamo Potremmo anche Non scansionarli tutti Nel senso che ci paga in base a quanti gliene diamo Quindi potremmo terminare prima il lavoro Ma ovviamente più gliene consegniamo più ci pagano Quindi meglio è Abbiamo appena scansionato gli ultimi due asteroidi Stiamo tornando alla base al quartiere PT&I Dove ci daranno i soldi E dove dobbiamo consegnare le informazioni sulla scansione degli asteroidi Pratico la scansione degli asteroidi Che è una cosa che potrà tornare utile anche a noi in futuro Serve per stabilire su un asteroide Che tipo di risorse si possono poi trovare Perché In futuro potremo distruggere asteroidi E collezionare le risorse che sono all'interno In generale si trovano minerali Silicio, cristalli, ghiaccio E Quindi andare a Guadagnare anche dal Dallo scavare i Gli asteroidi Il particolare di questo tipo di missioni Che all'inizio mi aveva sconcertato un po' E non capivo come concludere la missione È che una volta arrivati alla stazione Dove bisogna comunicare gli esiti della scansione dei minerali Bisogna andare nelle comunicazioni E ritrovare chi ci ha dato la missione In questo caso Questo Questo qua E Diregli Trasferimento dati asteroidi in corso Così Gli trasferiamo i dati E lui ci darà i soldi In questo caso dice Dati sugli asteroidi ricevuti Noto che hai recensito tutta la lista degli asteroidi Il mio capone sarà felice Come d'accordo Riceverai 45.745 475 crediti Grazie E buona continuazione Molto 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 Gentile Allora Io adesso vorrei fare una cosa Prima di dimenticarmene Vorrei dedicare Questa prima nave Che abbiamo ottenuto Quella standard Delle light Per ora Lo lascerò Qui Elite 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 Credo Perché Standard Elite Boh Vabbè Comunque Lo lascerei così per ora Ma Invece Dmitry Tanker Vorrei rinominarlo In particolare In onore di un iscritto Che ha sponsorizzato Diciamo Ha caldamente Seguito La creazione di questa serie Che è Xenon Ora Il problema è che L'username Xenon Potrebbe essere un po' Mal visto Su X3 Cioè Non posso andare in giro Con una nave Che è intitolata Al peggior nemico Che esiste Nell'universo di X Quindi Xenon Magari non posso metterlo Armageddon È un Po' Se mi consentite Banalotto E quindi Direi Che la chiamo Pierpippi Pierpippi Che è molto gentile Molto allegro E secondo me Ci sta bene Io spero che tu Non ti offenda Xenon Ma questa è la tua nave La nave Pierpippi Che andrà a farci Un sacco di soldi Quindi Benvenuta Pierpippi Guardate che bellina Che bellina Pierpippi Allora Allora A parte degli scherzi Voglio vedere Quanti big money Abbiamo Mio status Di pilota Abbiamo 469.000 Crediti Con il fatto Che adesso Abbiamo Un pochettino Di soldini Possiamo andare A valutare Magari anche L'acquisto Di un Secondo Di una Seconda nave Da commercio Se non ricordo male Qua nel quartiere General PT&I C'è un Cantiere Vero? Cantiere Teladis Sì Info Allora Vediamo un attimo Che cosa Vabbè Queste sono le stazioni Spaziali Le prime Non possiamo Compararle Però Il Vulture Chanker Ok Il Vulture Chanker Costa di base 226 Ma noi vogliamo Vedere Quanto costa Effettivamente Per intero Cioè Quanto Costa Quello L Perché altrimenti Bisogna andare A comprare Gli scudi Esternamente E Di solito Non conviene Perché devi farci Più Ci perdi più Tempo Che altro Quindi andrei A comprare Direttamente La versione L Cioè In realtà Vediamo Quanti soldi Costa Secondo me Costa All'incirca 450.000 Vorrei Anche Confrontarlo Con quello Che è Il costo Di un Di una nave Commerciale Di un cargo Per quanto riguarda Gli Argon O per quanto riguarda I terrestri Non so se Con i terrestri Possiamo acquistare Una nave Di questo tipo Ma controllare Il listino prezzi E le caratteristiche È importante Perché Ogni Razza Ha delle navi Caratteristiche Quindi L'M3 Degli Argon Sarà Diverso Dall'M3 Dei teladi Che sarà Diverso Dall'M3 Dei terrestri Dei goner Dei paranidi Degli split Eccetera Eccetera Questo Questo per ogni Tipo di nave Quindi Se noi Vogliamo Un cargo Magari Che ha un po' Meno spazio Ma un po' Più velocità Oppure più scudi Oppure più spazio O eccetera Eccetera Dobbiamo confrontare Un po' Vedere i prezzi E le caratteristiche Di ognuno Tipo qua Allora Andiamo a vedere I cargo Sono questi Questi sono I tucan Dovrebbero essere Trasporto persone Infatti E in futuro Potremo magari Valutare anche L'acquisto Di un trasporto Persone Ma non ora Pelican E un Tm Ma non ci interessa 403.000 Che non è male Allora Vediamo un attimo Il Vulture Tanker Ha una Velocità base Di 44,4 Migliorabile Fino a 79,9 Quindi è un po' lentino Forse più lento Del Dimitri Tanker Che abbiamo adesso Accelerazione Da 2 a 3 La manovrabilità Non ci preoccupa Troppo La stiva Da 3.500 A 4.500 Classe di trasporto XL Ottimo Io andrei a farmi Anche magari Uno screen Infatti Così su Steam In modo da andare a vedere Poi in seguito E ricordare Esattamente Quello che Ci Indicavano Le varie caratteristiche Delle varie navi Ora Andrei a vedere Una nave Argon Quindi andando a Qua Vero Che vendono Sì Andrei ad attraccare Quindi su Omicron Lairi E andremo a Andiamo a vedere Ci sono Più Più Ma costano Tantissimi Soldi Questi hanno Un cargo Enormamente Più Grande Però Costano 1.752.000 Crediti Non ne abbiamo Così tanti Il tanker Invece Da 3.000 A 4.000 Unità Quindi un po' Più piccolo Perché l'altro Se non ricordo male Era da 3.500 A 4.500 Carai parecchio Più veloce Farei allora Che salpare E andare A dare un'occhiata Tanto questi qua Abbiamo La nave parcheggiata Quindi non dovremmo Avere problemi Non so se ci venderanno Effettivamente qualcosa Ma tentare Non nuoce Tanto io taglio Il video Quindi sarò solo io Che mi Smazzo il viaggio Fino a Marte E noi ci vediamo Tra poco Eccoci qui Su Marte Vediamo un attimo Cosa possono venderci Qui Allora Baldrick E forse Eh si Forse proprio Baldrick Perché poi M1 M2 M3 M4 TL Qua non ne hanno A parte di Baldrick L Ma costano Mostruosamente Di più Sono parecchio Veloci Ma Non è che siano Poi molto Interessanti Ecco Quindi io direi Che abbiamo Fatto anche un viaggio Un po' A A muzzo Ecco Perché Qua poi Non abbiamo Trovato niente Di interessante Vediamo intanto Se con il nostro Dimitri Tank Riusciamo a Comprare O vendere Qualche Che cosa Nel frattempo Ho spostato Il Rapier Dal cantiere All'officina Perché vorrei Potenziarlo un po' Magari per utilizzarlo Per esplorare Non è una nave Che funziona Per niente Bene Per quanto riguarda Il combattimento Ma potenziando Ma potenziando Al massimo Il motore E la Manovrabilità Non dovremmo avere Troppi problemi Visto che adesso Abbiamo un po' Di soldi Possiamo permetterci Di spenderne Un po' Potenziando Al massimo Il motore Dovrebbe andare Molto veloce E quindi scappare bene Anche la Manovrabilità Non sarebbe Una cattiva spesa La stiva Non ci interessa Scudi Io li metterei Molto volentieri Anche se servono Davvero poco Ma almeno Per un Una difesa In più Ma non ce n'è Qui nella stazione Su Omicron Lairi Pirati Ci lanciamo Già le stanno Prendendo di brutto Da Dalle pattuglie Qua Ah no Sono degli Xenon Oddio No Questo qua È uno grande Via 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 Vai Porca miseria Seguilo Yes è andato anche l'altro Dov'è il missile? Dov'è il missile? Via 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 Mi stanno attaccando gli argon Dei droni argon Mi stanno attaccando Ma perché Ho sentito qualcosa esplodere Non mi piace Perché continuo a girare Come uno sceno Fine No cosa Io voglio capire Cosa diavolo è successo Si era 80 metri al secondo 79,9 Quindi direi che possiamo Effettivamente lanciarci Nell'acquisto di questa Nave qui Rimaniamo con pochi crediti Effettivamente Giusto 41.000 Ma Si può fare Anche perché abbiamo speso Un po' per quello Adesso dovremmo spenderne Un po' per riparare Di nuovo l'elite Perché Non per ripararlo Per rimettere Il triplex scanner E lo scanner minerario Che sono comunque In totale Forse un 50.000 crediti Allora Navi all'interno 3 ne abbiamo adesso Il vulture tanker L'elite E il rapier Io direi che Switchiamo al Avanzato Cambia nave Andiamo sul rapier In modo da avere In futuro No io voglio Navi all'interno In modo da avere In futuro La possibilità Di esplorare Molto più velocemente Qua metti Io non so come mai Di base mi metti Sempre i pirati Come alleato Quindi non Non scappa dai pirati Devo sempre Impostarglielo Io non so Per quale sarà la ragione Adesso mi ricordo Di mettere Avverti d'ordine eseguito Che è una funzionalità Che uso tantissimo Come avete potuto vedere E pirati Nemico Ok Ottimo 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 Io direi però Che per questo episodio Può essere tutto Visto che ormai È praticamente Un'ora e mezza Che sto registrando Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di X3 Vi invito a lasciare Un mi piace Un commento qua sotto E scrivervi se per caso Lo aveste già fatto Ciao a tutti E buona giornata Un'ora e mezza